Una donna fu riconosciuta dalla fede che portava al dito, unica cosa di lei rimasta. Di un bambino, figlio del dottor Micheletti, eroe di quei giorni, restò solo una scarpina. Basterebbero questi due dati per far comprendere cosa fu la strage di Vergarolla, tenuta sotto traccia per oltre mezzo secolo, della quale si può parlare da qualche tempo anche e soprattutto per ricostruire quanto accaduto e chiarire che, sì, fu una strage che riguarda il nostro paese. Era una domenica, il 18 agosto del 1946. Pola, allora, si trovava sotto l'amministrazione anglo-americana. Alla spiaggia di Vergarolla, il circolo canottieri Pieta-Siulia aveva organizzato una festa con gare di canottaggio. Era anche una delle tante affermazioni di italianità della città che si facevano sentire spesso, anche perché in quel periodo a Parigi erano in corso i negoziati per definire lo status dei territori italiani in Venezia Giulia e Dalmazia. Ad esplodere ordigni incustoditi di vario genere, raccolti dal mare nel corso della bonifica del porto. Per esplodere avrebbero dovuto essere innescati. Ci furono delle testimonianze. Un uomo fu visto aggiuntare figli elettrici presso la catasta di residuati. Fu l'esecutore dell'attentato? A tutt'oggi, quanto accaduto a Pola non conosce colpevoli. L'inchiesta delle autorità inglesi, secondo alcuni poco approfondita, negò l'ipotesi dell'incidente, ma a ciò si fermò. È incontestabile che Bergarolla pose fine al sogno di una Pola di nuovo italiana. Pertanto è giocoforza concludere che dietro all'attentato vi fosse la mano titina. Del resto, anni dopo, Milo Van Gilach, del filo di Tito caduto in disgrazia, dichiarò al periodico Fiumano Panorama nel 1946 io ed Edvard Cardeli andammo in Istria ad organizzare la propaganda anti-italiana. Bisognava indurre gli italiani ad andare via compressioni di ogni tipo. Così fu fatto. Così fu fatto. Parole che pesano come macigni, sotto i quali giacciono 64 cadaveri identificati, più una quarantina alla cui identità non fu possibile arrivare.